Esteri, asse Parigi-Berlino, si ha le armi a Kiev per colpire il territorio russo. Stati Uniti valutano, Tajani-Vadishe, mai oltre il confine ucreino. Medio Oriente, nel Mar Rosso, tre missili degli Uti colpiscono una nave greca. Tanchi israeliani a Rafa, allarme dell'ONU, già un milione di sfollati. Sostenibilità, partnership tra Coca-Cola, HBC Italia e Socialis-Casili Enterprise. NICE, accordo per il trasporto di bottiglie in plastica riciclata su veicoli alimentati a biocarburante. Commercio estero extra web, bilancia commerciale positiva per 4,9 miliardi ad aprile. L'export cresce del 3,4% su base congiunturale, importo in calo di 6 decimali. Istat a maggio, dati contrastati sulla fiducia, sale di oltre un punto a 96,2 e quella dei consumatori. La scende di 7 decimali quella delle imprese, ferma quota 95,1. NON-DO 4 5 6 6